Sì, una vittoria pesante, giusto, hai detto bene, perché non è facile venire a Brescia a vincere. Loro poi venivano da un periodo complicato, quindi avevano delle grandissime motivazioni, infatti sono partiti forti dal punto di vista caratteriale, energetico, ma io avevo chiesto ai miei ragazzi di pareggiare questa volontà di dominare, di vincere i duelli. Ho chiesto di fare una partita di personalità e avevamo provato in settimana delle situazioni tattiche che sono state svolte benissimo da parte di tutti i giocatori e quindi aumenta il rammarico per dei punti persi quando magari sbagliamo un po' l'atteggiamento da questo punto di vista. Stasera i ragazzi si sono rifatti subito e hanno dato dimostrazione di forza, di gruppo, che è quello che ci serve per affrontare le partite. Ma poche occasioni perché è stata una partita molto tattica, loro l'hanno preparata su di noi con un sistema che veniva a chiuderci tutte le nostre principali fonti di gioco, con i due difensori centrali, col play, e quindi lo sviluppo doveva essere più laterale, così è stato. Infatti i giocatori che hanno toccato più palloni nella nostra squadra sono stati i terzini e gli attaccanti esterni. Si faticava a entrare per vie centrali, abbiamo cercato di sfondare con i duelli laterali, ma loro sono stati bravi, avevano i tre difensori più i quinti che venivano a ripiegare, quindi non era facile. Sono le classiche partite che vengono decise da episodi. Noi siamo stati bravi su quel calcio piazzato, poi abbiamo avuto una grandissima pallagol con Gichiaier che gli è rimasta strozzata e che poteva darci il 2-0, però penso che alla fine sia stata una vittoria meritata, perché quando vai in trasferta e soprattutto a fronte di squadre forti, comunque come il Brescia, non è mai facile vincere, noi ci siamo riusciti. Grazie.